A conclusione del modulo didattico dedicato all'apprendimento, vediamo adesso un programma Prolog per generare un albero di decisione. L'albero che stiamo per vedere utilizzerà come criterio per selezionare di volta in volta l'attributo in base al quale effettuare il passo di discriminazione successivo, il coefficiente di Gini, che è definito come riportato su questa slide. In cui sostanzialmente viene valutata la sommatoria dei prodotti, delle probabilità di coppie di classi diverse, come criterio di misura della disuguaglianza. Alla scelta di un particolare attributo come elemento di discriminazione, l'insieme delle classi risulterà partizionato e il coefficiente di Gini varierà sempre come indicato in questa slide. Per cui, considerato qualunque valore V dell'attributo A, quello che si andrà a fare, si tratterà di prendere la probabilità che l'attributo A abbia proprio il valore V, moltiplicato per la sommatoria dei prodotti di coppie di classi, probabilità di classi condizionate al valore V, classi disgiunte. Quindi sostanzialmente viene riapplicato di nuovo il coefficiente di Gini ai vari sottinsiemi di esempi che vengono generati in basse all'applicazione dell'attributo A, che ha un insieme di valori, per cui avremo successivamente un valore del coefficiente di Gini diverso, che sarà non maggiore del coefficiente di Gini che si aveva al passo precedente. Quello che dovremmo fare è, siccome il coefficiente di Gini rappresenta una misura di disuguaglianza, dovremmo di volta in volta andare a selezionare l'attributo A che è in grado di minimizzare questo valore, perché noi dobbiamo minimizzare la disuguaglianza, perché come sappiamo alle foglie dell'albero poi dopo gli attributi appartiranno tutti alla stessa classe. Dunque, il programma che andiamo a vedere quindi utilizza questo indice di Gini, che è definito come abbiamo visto. Lo applicheremo, a modo di esempio, al problema di riconoscimento di regole, un apprendimento di regole che abbiamo visto due unità di dati che fa. Quindi, all'insieme, consiglio da 12 esempi di 5 classi diverse, dato, bullone, chiave, penna e forbici. Ciascuna classe, essendo definita da tre attributi, taglia, forma, buchi, ciascuno con il suo set di valori. L'esempio è esattamente quello che abbiamo già visto nell'altro programma Prolog, in cui siamo andati a fare apprendimento mediante individuazioni di regole IF-THEN. Adesso, invece, utilizziamo lo stesso esempio per effettuare la sintesi dell'albero di decisione. Allora, il coefficiente è dato da 1 meno la probabilità di ciascuna classe. Quindi, 1 meno la probabilità che l'esempio appartenga alla classe Dato e così via. Se andiamo a interpretare le probabilità come, in senso frequentistico, alla luce del training set, gli esempi che sono nel training set, abbiamo 3 su 12 sono dati, 2 su 12 sono bullone e così via, per cui abbiamo sostanzialmente queste probabilità. Dobbiamo elevarle al quadrato. Abbiamo anche il coefficiente di Gini del semplicelle, 114 su 144. D'altronde, anche se applichiamo quest'altra definizione qui, quello che ho fatto qui sotto, andiamo a... ... Se poi andiamo ad applicare il coefficiente di Gini, abbiamo... Se andiamo ad applicare l'attributo taglia, il coefficiente di Gini varierà e varia come è descritto qui. Quindi, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo andare a... Andare a vedere, innanzitutto, la probabilità che... L'esempio si è caratterizzato da un valore per quanto riguarda taglia small, quindi P di small, moltiplicato per la sommatoria di tutte queste coppie di... Prodotti di coppie di probabilità di appartenza di una classe condizionate al valore... dell'attributo taglia small. Quindi, probabilità che dado sia small per la probabilità che bullone sia small, probabilità che dado sia small per la probabilità che la chiave sia small, dado small per penna small, dado small per forbici small, e poi questo anche per bullone, per chiave, per penna, per forbici. Tutto questo in corrispondenza all'ipotesi che l'attributo taglia abbia il valore small. Poi si somma anche, perché avevamo una sommatoria, qui, pure, in corrispondenza del valore dell'attributo taglia large, è esattamente la stessa cosa, quindi la probabilità della classe che l'esempio per il valore della taglia large sia un dado, per la probabilità che l'esempio, selezionato in base all'attributo taglia large, sia un bullone, e così via per gli altri. Quindi andiamo a fare i calcoli. Ho riportato qui i calcoli fatti a mano, quindi abbiamo sostanzialmente che 7 esempi su 12 hanno la taglia small, e i restanti 5 hanno la taglia large, poi sono andato sia per la small che per la large a calcolare la frequenza relativa di ciascuna classe, quindi la probabilità condizionata di ciascuna classe al fatto che l'attributo abbia proprio quel valore, e quindi andando a fare tutte le somme, mi riporta come valore 0,647 errotti, quindi dobbiamo che l'indice di gini diminuisce. Se utilizziamo come attributo, abbiamo anche altri attributi, la scelta dell'attributo è una scelta che segue una logica gridi in ricerca locale, e quindi a questo punto partizioneremo le classi degli esempi, e a ciascuna partizione poi effettueremo, applicheremo un successivo criterio e così via, fino a produrre sperabilmente delle foglie in cui tutti gli esempi appartengono alla stessa categoria. Dunque, la parte più complicata ovviamente di tutto questo meccanismo è la situazione di un prodotto, però il programma è la situazione di un prodotto, la parte più importante su questa è la parte che va a calcolare mediante il coefficiente di gini il valore della disuguaglianza. Quindi questa parte che è la luce degli esempi sceglie l'attributo con i suoi valori e va a effettuare tutto il calcolo che abbiamo visto prima. nel calcolo sarà utilizzato il coefficiente di gini che abbiamo appena visto ed il calcolo avrà una complessità quadratica, infatti si vede che lanceremo un find all e entro il find all lanceremo un bag off. Io direi di andare a vedere con calma prima questa parte qui e poi vediamo tutto il programma. Quindi per vederla lanciamo un goal ausiliario, andiamo a cercare tutti gli esempi a partire dal set iniziale e li mettiamo in una lista esempi. Dopodiché andiamo a far partire il goal di disuguaglianza su questi esempi supponendo di scegliere come attributo per effettuare la partizione l'attributo taglia e andiamo a calcolare il coefficiente di gini. Allora ecco, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima andare a raccogliere tutti gli esempi all'interno di una lista erano 12, abbiamo raccolti in una lista poi abbiamo già che l'attributo è taglia quindi andiamo a prendere per l'attributo taglia i suoi valori che sono small e large e poi andiamo a applicare tutto il sistema di calcolo del coefficiente di gini nell'ipotesi che scegliamo l'attributo taglia per effettuare la partizione taglia avrà due valori, small e large in corrispondenza di ciascuno dovremo fare il calcolo che ho fatto qui a mano quindi l'approfondimento lo potete fare come esercizio per conto vostro comunque cerchiamo di vederlo un pochino nel dettaglio prima andiamo a raccogliere abbiamo passato la lista con tutti gli attributi andiamo a vedere quanti ne sono lo sappiamo, sono 12 con la lunghezza e poi andiamo a cercare all'interno della lista A mediante il find all andiamo a cercare tutte le classi che appartengono a questa lista di esempi per le quali il valore dell'attributo D che è taglia è uguale E che è small abbiamo selezionato prima small cioè andiamo a vedere tutte le classi con ripetizione ovviamente in base al quale la descrizione dell'oggetto che è contenuto nella lista degli esempi ha per quanto riguarda la taglia e il valore small sono 1,2,3,4,5,6,7 infatti sono dado c'è un esempio c'è un dado small un bullone small una chiave small un dado small un bullone small un dado small una chiave small non ci sono penne small non ci sono forbici small e c'è una chiave che qui non è rappresentata che non è small è large comunque andiamo a vedere quanti sono sette gli esempi che hanno il valore dell'attributo a small e verifichiamo che sia maggiore di zero poi ci tagliamo i ponti alle spalle con quel cut lì in maniera tale da rendere questa computazione deterministica dopodichè lanciamo questo find all e questo bug off un bug off un po' particolare perchè in pratica va a creare una lista di 1 per ogni partizione in base a della lista f che gli passiamo dunque nella lista f gli passiamo c'è 2 esempi di dato 3 esempi di dato 2 esempi di bullone e 2 esempi di chiave quindi cosa farà creerà questo bug off una e metterà in h una 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 sottolista per di 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 esempi in cui gli esempi sono dato e ne saranno 2 di di esempi che saranno chiave ne saranno 2 e di esempi che saranno e di esempi che saranno no dato sono 3 chiave sono 2 bullone sono 2 e dopodichè per ciascuna di queste liste andrà a calcolare la lunghezza e poi andrà a calcolare i come rapporto fra j la lunghezza di questa lista è 7 perchè tutti quanti è 7 quindi va sostanzialmente a calcolare la la frequenza relativa della classe all'interno della lista f e le classi presenti nella lista f sono 3 dado bullone e chiave quindi in pratica abbiamo che nella lista k rischiuta questo find all abbiamo 0 2 8 5 e anche un altro 0 2 8 5 che sono queste sono state grazie al bagoff ordinate in senso numerico e quindi hanno preso prima le due liste più corte in cui abbiamo in corrispondenza del dado e del bullone una frequenza relativa di due settimi quindi 0 28 0 28 per quanto riguarda invece la chiave abbiamo che di no è il dado che c'ha 3 settimi chiedo scusa quindi il bullone chiave sono 2 settimi il dado c'ha 3 settimi che 0 42 e 8 poi dopo andiamo a applicare Gini che fa sostanzialmente questo lavoro qui cioè mediante il passo che abbiamo appena fatto abbiamo calcolato i 3 settimi e i 2 settimi sostanzialmente perché siamo partiti dal caso small poi farà lo stesso con 5 e con Gini va a fare tutta quest'altra operazione qui cioè il calcolo questo calcolo qui quindi Gini adesso l'ho saltato per motivi di tempo fa quel calcolo che vi dicevo e quindi restituisce in M questa quantità che poi va moltiplicata per G per G diviso N dove N è 12 e G è 7 cioè per la per 7 decimi per 7 dodicesimi e a cui poi aggiungiamo L che è 0 perché L servirà successivamente per sommare a questo termine qui quest'altro che verrà calcolato successivamente tutto questo qui quindi adesso stiamo calcolando questo poi verrà calcolato questo e si sommeranno grazie ad L che restituirà il risultato sarà passato qui dunque allora in pratica si va a fare questo calcolo e quindi P riporta questa quantità qui per il momento dopodiché si fa la ricorsione passando sempre il set di esempi iniziali stiamo sempre parlando dall'attributo taglia questa volta però prendiamo l'attributo large e gli diamo una somma parziale P che è 0,38 e ci deve risiedere Q che sarà la la il quantitativo finale che dovremo utilizzare come nuova stima del coefficiente di Gini e quindi adesso non rifacciamo tutto quanto il discorso e alla fine viene restituito il per Q 0,647 6190 che è proprio 0,647 6190 quello è il calcolo che avevamo fatto a mano e quindi il il programma sostanzialmente termina e abbiamo viene effettuato il calcolo del coefficiente di Gini adesso vediamo invece come questo calcolo viene utilizzato all'interno del programma più e lanciamo un programma mostra che poi ce lo mostrerà sulla console quindi lanciamo induce albero e deve restituire un termine che è l'albero di decisione prodotto utilizzando come criterio per selezionare l'attributo il coefficiente di Gini dunque innanzitutto andiamo a raccogliere tutti gli esempi nella classe i soliti esempi e raccogliamo anche tutti gli attributi che sono taglia, forma e buchi a questo punto dobbiamo indurre l'albero alla luce del training set esempi e alla luce degli attributi che sono contenuti in questi esempi quindi per prima cosa il programma funziona in questa maniera diciamo ha un 3 4 clausole di ricorsione c'è un tappo in cui abbiamo che l'albero è il termine null e questo accade quando non ci sono più esempi da classificare oppure il caso buono in cui tutti gli esempi appartengono alla stessa classe è l'estaper leaf è un altro tappo vediamo che tutti gli esempi che sono rimasti all'interno del set degli esempi appartengono tutti alla medesima classe è un altro qui appunto ci fermiamo non si sviluppa più l'albero c'è abbiamo una foglia e riportiamo la classe come foglia oppure il caso generico è quello della ricorsione che è la terza clausola che partirà in cui dato l'attributo andiamo a creare i sottoalberi utilizzando l'attributo per partizionare dunque adesso il programma nel trace sta esaminando il caso che gli esempi che abbiamo passato appartengono tutti alla stessa classe questo ovviamente non è per cui fallisce si va alla terza clausola si va a scegliere l'attributo in base al quale effettuare la partizione qui sarà utilizzato il coefficiente di Gini e verrà lanciato il goal di suguaglianza che abbiamo lanciato prima all'interno del trace dandogli di volta in volta un attributo diverso raccogliendo nella lista terzo argomento di questo set off una lista di termini che saranno ordinati in senso crescente rispetto al risultato restituito dal goal di suguaglianza quindi in pratica noi avremo una lista di tre elementi uno per taglia uno per forma e uno per buchi che saranno tre elementi così da una banale struttura con questo puntore dove però al primo argomento nel puntore ci sarà il valore restituito al coefficiente di Gini e sarà tutto ordinato in senso crescente per cui prendendo poi il primo di questa lista ed è qui un motivo di inefficienza di questo programma perché in pratica andiamo a ordinare tutta quanta potrebbe migliorare qui comunque andando a prendere il primo di questa lista noi scegliamo l'attributo in base a quale effettuare la partizione successivamente quindi allora lanciamolo questo qui e viene fuori che il miglior attributo è buchi perché è quello in base al quale tutto il calcolo l'abbiamo visto prima e noi l'abbiamo visto prima solo per l'attributo taglia fatto anche per gli altri due attributi in particolare forma e buchi in particolare per buchi fa sì che buchi sia l'attributo con il miglior valore del coefficiente di gini cioè il più basso e quindi abbiamo ridotto al massimo la disuguaglianza e quindi sperabilmente passando per buchi avremo un un albero più piccolo sperabilmente ma ovviamente non è non è sicuro allora viene scelto buchi e a questo punto ci tagliamo di nuovo i punti alle spalle anche qui rendiamo deterministica la procedura andiamo a togliere l'attributo buchi e quindi prendiamo a questo punto un altro attributo e lanciamo scusate abbiamo ripreso di nuovo l'attributo buchi però siamo andati a prendere i valori dell'attributo buchi chiedo scusa e lanciamo induce alberi che alberi al plurale a cui passiamo l'attributo buchi i valori quindi nessuno uno due tre molti e poi li passiamo gli altri due attributi quelli che saranno utilizzati successivamente da induce alberi per generare i sottoalberi e gli passeremo gli esempi che sono ancora gli esempi originari e dovrà l'induce alberi andare a produrre i sottoalberi da associare a ciascuna partizione costruita alla luce del valore di attributo come lavora questo qui induce alberi ecco qui va a cercare in basse del valore attributo buchi e val uno che è nessuno buchi nessuno va a trovare gli esempi e genera i sottoesempi e poi alla luce di questi sottoesempi applica gli attributi rimasti che sono tagli e forma per generare il sottoalbero in maniera ricorsiva lanciando induce albero come abbiamo visto prima però prima induce albero era stato lanciato attributo con il induce albero gli era stato passato tutti gli attributi adesso invece li passiamo dov'è gli attributi lavoriamo in maniera ricorsiva poi lanciamo il che ci siamo costruiti per evidenziarlo a schermo il programma sarà così che in corrispondenza di foglie null scriverà sconosciuto in corrispondenza di foglie leaf con una classe scriverà il nome della classe in corrispondenza di un termine non foglia andrà a scrivere il termine e poi utilizzerà mostratutto per andare a sviluppare e mostrando sullo schermo da sinistra verso destra come stiamo per vedere i i sottoalberi quindi va bene allora questo lo lanciamo tutto terminato in pratica il programma induce albero ci mostra quest'albero qui ci dice che per prima cosa dovremmo utilizzare come attributo il numero dei buchi il quale potrebbe avere nessun valore potrebbe avere nessun valore in tal caso bisognerà andare a vedere la taglia perché se la taglia è small allora sarà un bullone se la taglia è large allora sarà una penna nel caso che i buchi sono uno bisogna andare a vedere la forma perché se la forma sarà oblunga è una chiave se la forma sarà compatta è un dado se la forma è un'altra allora abbiamo sconosciuto cioè non abbiamo visto esempi nel training set non ci sono esempi che corrispondono a questi al valore a questi due valori per i due attributi cioè un buco e altra forma se il valore dell'attributo di buchi è 2 allora bisogna andare a vedere la taglia perché se la taglia è small allora è una chiave se la taglia è large allora sono delle forbici se poi il valore di buchi è 3 allora abbiamo sconosciuto perché non abbiamo un training set esempi di oggetti che hanno 3 buchi se il numero di buchi è molti anche abbiamo sconosciuto per lo stesso motivo bene con questo abbiamo terminato la descrizione di questo programma e lo potete utilizzare in per effettuare della precisione ma come vedete il risultato sarà almeno nell'esempio considerato sarà analogo per effettuare un'esempio un'esempio per effettuare